Il summer time, il summer time show Io sono tornata con grande entusiasmo in questa seconda stagione insieme a Carlo Tedeschi e i ragazzi del lago Per me sono diventati veramente una famiglia, quindi adesso al di là dello show stiamo benissimo insieme Il livello artistico anche quest'anno è davvero molto alto e quindi è per me un motivo di grande orgoglio essere qui con loro Il livello artista che c'è un bel episodio